Una giovane sposa picchiata, seviziata dal marito di 19 anni e poi trascinata per i capelli dal consorte a bordo della sua auto, in riva al fiume Etanaro dove nessuno l'avrebbe visto, l'uomo continuava a piccarla con calci e pugni per educarla, per fortuna della donna che ha 18 anni, serba come il consorte ad interrompere quella violenza del marito e arrivata la polizia che lo ha arrestato. L'incubo di quella mammina di tre bambini picchiata quasi quotidianamente da due anni è finito quando la polizia ha fatto scattare le manette ai possi del serbo che lo hanno tratto in arresto con l'accusa di sequestro di persona, maltrattamenti e lesioni aggravate. Accusa è fermo, poi convalidato dal GIP del Tribunale Alessandrino. I fatti emersi durante la conferenza stampa tenuta dal questore Michele Morelli, dal capo della squadra mobile Marco Poggi e alla quale ha preso parte anche il dirigente della sezione volante Valentina Ferrareisi, sono sconcertanti. La donna, oltre ad essere colpita con calci e pugni, veniva ferita con una penna biro che l'uomo le invilzava nelle gambe. La coppia, proveniente dal Montenegro, arrivata in Italia, ha trovato caso alla frazione Alessandrino di San Michele dove i vicini, testimoni di quella inaudita violenza subita dalla giovane sposa, hanno avvertito la polizia. Durante la conferenza stampa il questore ha raccomandato che quando succedono queste cose di non avere timore a denunciarle alla polizia o a chi volete, perché se si arriva in tempo si possono evitare conseguenze peggiori.